Polizia Ferroviaria, ottimi risultati dai controlli stivi. Camminando in Valdabeto, due nuove opportunità. Gentili signore e signorine telespettatrici, cortesi telespettatori, buonasera e benvenuti al TGT Guglio di oggi, sabato 8 settembre. In apertura subito un fatto di cronaca, ieri pomeriggio i poliziotti al commissariato Chiavari, durante un servizio di controllo per la prevenzione del traffico di yoga, hanno tratto in arresto un giovane residente a Genova di 21 anni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti in abiti civili situati nei pressi del campo sportivo di Caperana hanno rilevato la presenza di un'automobile attorno alla quale erano siti due giovani che conversavano con il conducente. Questi dopo pochi minuti si sono allontanati con fare sospetto. Di qui il controllo operato dagli agenti in borghese che ha fatto ritrovare in loro possesso 1,27 grammi di ascisce. Ciò ha comportato una sanzione amministrativa a loro carico. Dopodiché gli agenti sono intervenuti e hanno controllato i proprietari dell'autoveicolo, trovando all'interno della stessa vettura ulteriori 50 grammi di ascisce, più un bilancino di precisione, 285 euro in banconote ed un coltello da serramanico con lama di 9 centimetri. A questo punto si è proceduto alla successiva perquisizione domiciliare del Reo che ha fatto ritrovare un altro bilancino di precisione, euro 2670 a frutto di eventuali vendite precedenti di droga, 83 grammi di marijuana e soprattutto di una singolare artigianale serra in legno per la coltivazione dello stupefacente. Sul cellulare dello spacciatore poi sono state rilevate altre chiamate da parte di ben noti assuntori e spacciatori. Quindi di qui il trattenimento in questura del fermato con giudizio direttissimo fissato per questa mattina. Abbiamo iniziato dunque con un fatto delittuoso, viceversa passiamo alla prima nota positiva della serata. Ovviamente il bilancio più che soddisfacente relativo all'operato della Polizia Ferroviaria Liguria in questa estate 2018. Vediamo il seguito. Bilancio più che soddisfacente quello relativo all'operato della Polizia Ferroviaria inerente alla prevenzione e alla repressione di reati ai danni di viaggiatori e personale viaggiante. Dal 1 giugno al 31 di agosto l'intensificazione dei servizi effettuati dal compartimento Polizia Ferroviaria Liguria, con personale altamente specializzato e dotato di materiale tecnologico di ultima generazione, ha sortito ottime risultanze, in particolare nell'azione anti-borseggio, 107 i controlli in tal senso, e nell'identificazione di persone sospette, 6.484 i controllati, fra i quali sono stati censiti 15 stranieri privi dei requisiti legali di permanenza sul territorio nazionale. E' ancor più da registrare 72 denunce a piede libero e 59 sanzioni amministrative elevate. Il lavoro quotidiano della Polizia Ferroviaria risulta particolarmente incisivo, ancor più nel periodo estivo, anche nella ricerca di persone scomparse, 10 quelle ritrovate, fra le quali 6 minori, e anche per quello che riguarda l'assistenza a coloro i quali hanno difficoltà o qualche lieve disagio. Naturalmente la loro reiterata presenza sui treni consentono agli utilizzatori degli stessi e al personale viaggianti di effettuare il proprio viaggio in regime di massima sicurezza. L'ode merito e buon lavoro a tutti loro! Orbene, si diceva in apertura che siamo a metà settembre, ci sono ancora tantissimi eventi per quanto riguarda sia l'ambito godereccio, che quello religioso, che anche quello sportivo, in programma, e quindi dobbiamo elencarvi in una buona serie. Prima di tutto, partiamo da Chiavari, dove domani sera alle ore 21, presso l'Auditorium San Francesco, quale degno finale della rassegna in teatro dialettale Elio Rossi, si procederà alla premiazione, a cura dell'Associazione Culturale Ucastellu, organizzatrice dell'evento dei premiati. Restando a Chiavari, ricordiamo che è possibile visitare, presso i locali del Laboratorio Casoni, in Piazza San Giovanni, la mostra di artisti vari allestita dall'Associazione Culturale Politica Il Bandolo, per festeggiare il cinquantesimo anniversario dell'evento. L'orario di visita fino al 22 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero. Passiamo a Cogorno, dove sarà in programma domani la diciottesima festa e fiera dei perdoni e dei perdonetti, nel centro di San Salvatore. Si tratta della rivisitazione di un'antica fiera fliscana legata alla festa della Santa Croce. Per il visitatore, soprattutto, è l'occasione di ammirare la lavorazione artigianale e anche, perché no, di assaggiare delle prelibatezze all'antica. Nella tarda mattinata verrà presentata la rivocazione storica fliscana dell'annuncio delle grida del 1600. Tutto ciò grazie ai gruppi storici dei Sestieri di Lavagna, Flos Duellatorum e Grazie d'Amore. In occasione dell'avvenimento fioristico si procederà anche alla premiazione dei vincitori del concorso Miglior Uliveto 2018, il tutto ovviamente a cura del comune di Cogorno. Passiamo a San Colombano-Cerpenoli, qui ci immergiamo nel lato più godereccio, perché organizzata dalla locale Acli si svolge la saga della Mega, ovvero del Pannocchie di Granoturco. Gli stand gastronomici saranno operativi dalle 12.30. Nel pomeriggio, musica di qualità con l'orchestra Mario Zecca e, tanto per gradire, distribuzione di pannocchie. L'evento è garantito anche in caso di tempo avverso, poiché il tutto è svolto al coperto. Andiamo, o per meglio dire, rammentiamo che a Mezzanigo è la Domenica delle Nocciole. A partire dall'ora di 9.45 sarà un incedere di eventi fino al momento clou, quello tanto atteso dai visitatori. Nel pomeriggio, infatti, quale degna chiusura, vi sarà l'inebriante assaggio di crema di nocciole. Naturalmente, tanto per chiudere in bellezza, un appuntamento al quale il nostro caro Fabio Guidoni, che venne ampiamente parlato ieri, è senz'altro presente. Lui che è appassionato di cose buone dal mondo. Ancora in tema mangereccio, a Casoni di Amborzasco si svolge la decima fiera della saga del fungo e della patata quarantina. Gli stand saranno aperti dalle ore 12.30. Nel pomeriggio poi spazio alle danze, anche per smaltire l'abbondante pasto di mezzodì. A Gattorna, qui passiamo a un altro ambito, ancorché importante delle altre sì, termina domani la grande occasione di acquistare prodotti di qualità a basso prezzo. Ferma un affare organizzato dall'Associazione Comercianti La Girandola. I prodotti in offerta saranno esposti innanzi ai negozi partecipanti all'iniziativa. In caso di pioggia, è possibile trovare le offerte in questione all'interno degli esercizi commerciali. Andiamo oltre, andiamo oltre e dobbiamo passare al lato, diciamo così, semisportivo, solo semi. Perché? Perché a Santo Stefano domani ci sono altre due occasioni per coloro i quali amano camminare. Quali? Nel dettaglio. Due gli appuntamenti per i buoni camminatori in Val d'Aveto. Il primo, a cura del rifugio Casermette del Penna, riguarda il percorso che seguirà le vie del Monte Trevine e del Monte Penna. Per informazioni, contattare direttamente il rifugio allo 0185 1676495. La seconda opportunità è invece riservata agli amanti dell'avventura, sulle tracce del lupo, risalendo la cima rocciosa a sud del Monte Iona. Prenotazione obbligatoria in questo caso, consultare il sito web del comune di Santo Stefano Davito per maggiori informazioni. E domani, dalle ore 10 alle ore 17, sarà aperto per l'ultima volta, in stagione estiva, il Museo del Bosco al Lago delle Lame, in comune di Rezzoaglio. Lo si raggiunge dopo tre chilometri da Magnasco e sulla strada 654. Questo museo è dedicato alle foreste del parco, con un occhio rivolto alla sua storia passata, presente e futura. Per informazioni si può telefonare allo 0185 333 470. A Cicani, invece, organizzata dalla locale Proloco, si terrà un'escursione guidata sul sentiero che percorre il passo della Crocetta, da qui fino al Monte Manico del Lume. Il raduno è fissato all'ore 8 in Piazza dei Miracoli, naturalmente a Cicania. Poi, autonomamente, ci si sposterà fino al passo della Crocetta, dove prenderà il via la salutare camminata. Passiamo alle note di carattere religioso. A Lavagna si completa domani la due giorni di celebrazioni per la patrona presso la parrocchia santuario di Nostra Signora del Ponte. Alla Santa Messa dell'ore 19 seguirà la processione con l'Arca della Madonna. A Panesi di Lumarzo, festa patronale in onore della Madonna del Bosco. All'ore 16 verrà ufficiata la Messa Solenne, con la partecipazione della corale Cantate Domino di Genova. A seguire, la processione nel Bosco, accompagnata dalla banda musicale di Sussisa, con Santa Benedizione a chiudere la cerimonia tutta. Restando ancora in ambito religioso, domani si conclude la tre giorni dedicata alla festa del Sacro Cuore a Montepegli, frazione di Rapallo. Le sante messe vi sono al mattino e al pomeriggio, con accompagnamento del coro parrocchiale di San Quirico e Montepegli, diretto da Loredana o Riccelli Rovegno. Gli stand gastronomici saranno aperti dall'ore 19, mentre dall'ore 21 vi sarà spazio per le danze. Infine, a Sesti Levante, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Cristo e della Madonna, presso la Basilica di Santa Maria di Nazareth, all'ore 21.15 si terrà il concerto del coro Segesta, direzione affidata al maestro Maurizio Baroso, mentre all'organo vi sarà Davide Noceti, musica in programma tra le altre di Vivaldi, Rossini e Verdi. Ricordiamo ancora che a Ricco si conclude domani il trittico dedicato alla nostra signora del suffragio, dopo la saga del fuoco, con ovviamente lo spettacolo pirotecnico che andrà in scena questa sera. Domani ci sarà la chiusura della Sacra Ricorrenza, con la messa alle ore 17 e poi alle 18.30 la mainabandiera del Comitato dei Quartieri, mentre alle 19.00 la Santa Messa andrà ad accompagnare, un ringraziamento alla Madonna, la chiusura da parte dei quartieri di Recco. Poco più in là, a Camogli, lamentiamo anche che prosegue la quinta edizione del Festival della Comunicazione, un ricco e variegato panorama artistico e culturale molto noto anche al di fuori dei confini nazionali. In chiusura qualche nota di rilievo più leggero e partiamo da Rapallo, dove in programma un evento molto utile per mantenere fresco, tonico e sensuale il proprio fisico. Ovviamente ci riferiamo a quello femminile. Domani infatti le ore 16, nei pressi del Chiosco della Musica, su uno spazio dedicato alle appassionate di fitness e di movimento. Trattasi anche di un appuntamento importante perché è a scopo benefico. Il ricavato verrà devoluto alla consulta del volontariato di Rapallo. In caso di maltempo nessun problema perché l'evento si terrà all'interno della palestra Energy in Via Toti. Quindi belle fanciule tutta a Rapallo. Per coloro in quali viceversa vogliono ancora spaziare in ambito semisportivo, possono andare a Zoagli, domani dalle ore 14 alle ore 22, in piazza 27 dicembre, la manifestazione promozionale per le associazioni sportive del territorio denominata Zoagli Sport & Fun. Tra le varie proposte si potrà anche assistere a esibizioni di wrestling. Per quanto riguarda le informazioni ci si può rivolgere al www.zoagliandfun.it. Una notazione anche per gli appassionati delle due ruote. A Moneglia domani ci sarà l'arrivo della passeggiata dei scooter storici che prenderà il Via da Chiabra in prima mattinata. A Moneglia arriveranno in tarda mattinata. Un'occasione ancora per apprezzare, per coloro i quali ne sono appassionati, queste due ruote d'antan. E andiamo adesso a impegnarci nell'ambito sportivo vero e proprio. Detto che domani alle ore 15 lo stadio Riboli di Lavagna ospiterà la sfida, valevole per i 32esimi di Coppa Italia tra Lavagnese e Savona. Ricordiamo altresì che per quanto riguarda la serie successiva, serie precedente, ovvero la serie C. Beh, l'Entella, Virtus Entella, deve attendere la settimana prossima per conoscere il suo definitivo destino. Se sarà la serie C, Amen. Ma però si spera ancora, perché no, quello che dovrebbe essere la giusta risalita in serie B. Vedremo comunque attesa la settimana prossima per l'ultima parola da parte della FIGI C. A chiudere, invece, una nota che riguarda la Canoa Polo, perché tra oggi e domani il chiave di Canoa Polo sarà impegnato a Nottingham, in Inghilterra, nelle sfide che valgono l'acquisizione della Champions League. È abbastanza arduo riuscire a raggiungere tale ambito trofeo, tuttavia, per quanto riguarda Luca Bellini e Soci, nulla è ancora precluso. Certo che gli avversari sono di un certo tono, a partire dai portoghesi del Barga, parlando poi degli irlandesi del Kirkrock, per non dimenticarci dei tedeschi dell'Essen e soprattutto dei francesi del Lassigné. Ma comunque, chissà mai che Chiavari non porti a casa anche questo trofeo? Beh, siamo arrivati in coda, abbiamo detto che è una giornata abbastanza tranquilla, se non proprio serena, il cielo è così così, le previsioni meteo comunque sono parzialmente positive, lo vedrete tra poco. Quello che posso dire è che comunque sia, l'importante è che abbiate a trascorrere tutti voi, signore e signorine, cortesi e telespettatori, una serena fine settimana. Piazza Levante e YLab presentano Michael Frank, uno scrittore che ha portato la Liguria sul New York Times. Questo incontro che ci sarà a YLab il 14 di settembre alle 17.30 sarà condotto da Alberto Bruzzone della redazione di Piazza Levante. Alberto, che cosa accadrà? Allora, noi avremo il piacere di ospitare Michael, che è un collega, giornalista ed è uno scrittore che ha realizzato un bellissimo libro, si intitola I Formidabili Frank, in Italia lo edita e in Audi, ma è un libro che è stato tradotto già in quattro lingue e che racconta un po' la storia della sua famiglia con moltissimi elettroscena e moltissimi sipalietti anche gustosi, oltre che un finale che non spoileriamo per non distogliere l'attenzione su questo incontro che sicuramente sarà molto coinvolgente perché Michael, oltre a essere uno scrittore, è un giornalista che è innamorato della Liguria, vive a Camogli e che ha scritto degli articoli sul Golfo Paradiso, su Genova e parleremo senz'altro quindi della Liguria vista dagli occhi di un americano famoso. In questo libro Michael Frank parla della sua storia e della sua vita, ma nell'ambito della sua storia e della sua vita si parla anche della Liguria, quindi è già nel libro, esce ed entra dal libro. Sì, perché lui praticamente ci racconta che è venuto in Liguria ai tempi dell'università, poi si è innamorato della nostra regione e ha fatto tutta una serie di ricerche che sta continuando a fare anche per quanto riguarda una sua grande passione che è la storia dell'ebraismo e quindi anche delle persecuzioni che ci sono state naturalmente anche in Liguria, Golfo Paradiso durante la Seconda Guerra Mondiale e che sono articoli che lui ha già pubblicato o altri che vorrà pubblicare sulle testate americane più famose per cui lavora, tra cui appunto il New York Times che tu Marisa hai citato, dove appunto ha scritto questo famoso articolo su Genova che ha avuto un grandissimo successo, un eco internazionale che insomma ce l'ha fatto voler bene qui da noi. Quello che accadrà appunto il 14 settembre alle 17.30 a Wailab quindi non è presentare un libro ma sarà usare un libro come sfondo per presentare un autore che ama la Liguria in particolare oltre che l'Italia. Sì, è un autore che ama l'Italia, che ama viaggiare e che insomma ci racconterà appunto che cos'è la Liguria vista dagli occhi di uno straniero. Volevo precisare che l'incontro è ingresso libero quindi tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, Michael al termine firmerà copie del suo libro a chi avrà il piacere di acquistarlo e naturalmente la conversazione, essendo Michael ormai un italiano adottivo, sarà in lingua italiana quindi senza nessun inglese, nessuna traduzione. Uno degli ultimi appuntamenti dell'estate chiavarese organizzati dall'amministrazione comunale riguarda il concerto di Oriano Castelli e la prospettiva acustica che si svolge sabato a Chiavari nella tensa struttura della colmata mare dove si sono verificati in tutta l'estate altri concerti e manifestazioni. L'orario è alle 21.15, il titolo con quella faccia un po' così cioè i Liguri visti dai Liguri, ovvero spettacolo di musica e parole. Oriano Castelli ti spiega questa serata. Ma è un concerto appunto condito tra musica e appunto parole che attinge le canzoni dai migliori cantautori genovesi e un viaggio introspettivo all'interno della Liguria partendo proprio da noi stessi. Quindi è un po' diverso dal concerto tradizionale. Sì, è diverso dal concerto tradizionale perché il concerto tradizionale presuppone un viaggio di canzoni una dietro l'altra. Queste canzoni saranno praticamente collegate da storie, dalle nostre storie partendo da noi. Quest'estate ha visto parecchie vostre esibizioni nel Tiguglia e non solo? Sì, è andata abbastanza bene e ci siamo divertiti che poi è quello che noi vogliamo. Sono tante le band che operano nella nostra zona? Ma sì, direi di sì, piano piano. Ora io sono uno dei più vecchi, comincio a essere. Però vedo che, sì, che pullula, che nascono, c'è un bel fiorire. I giovani si avvicinano alla musica? Ma a me sembra di sì, a me sembra di sì. Hanno molti più mezzi rispetto a quando abbiamo iniziato noi. Ora non è che voglio fare veramente il vecchio, però ai tempi non c'era YouTube, non c'era nulla. Si entrava con la voce nella cassa del chitarrista, le prove. Adesso queste cose sono superate. Il pubblico risponde? Il pubblico risponde, devo dire di sì. È stata una bella estate e la gente quando ci sono delle belle iniziative devo dire che si muove, dai, ancora. Flavio Malchiodi, presidente del Comitato Fuochi Recco e la portavoce Sandra Pozzo. Il vostro è un lavoro, è stato riconosciuto da tutti questa mattina, che dura tutto l'anno per 365 giorni. Lei ha ringraziato i quartieri e lei li coordina. Come avviene questo matrimonio? Allora, questo matrimonio avviene appunto durante tutto l'anno perché noi dal 9 di settembre praticamente già pensiamo alla festa dell'anno dopo e quindi facciamo parecchie riunioni e cerchiamo di condividere tutto il percorso insieme grazie anche al Comune perché qui dobbiamo proprio ribadirlo. Il Comune per noi è determinante perché ci ha sempre supportato, prende delle responsabilità il sindaco, le prime persone, gli assessori e comunque tutti i dipendenti come hanno detto nella conferenza stampa. Ringraziamo tutti e poi ci siamo noi che comunque con il nostro volontariato, con le nostre liti benevole perché poi litighiamo sempre a fin di bene per la festa. Quindi cerchiamo sempre di arrivare in fondo tutti uniti e finora ce la facciamo e ce la faremo sempre perché ci teniamo veramente a questa festa. Quanti sono i quartieri? Sono sette. Ecco, la portavoce, signora Pozzo, sette quartieri, un'unica voce, è facile? No, non è facile, però ci riusciamo perché la volontà è quella di andare avanti e di cercare sempre di portare la nostra tradizione che come ho detto prima nel mio intervento è sempre più difficile però noi siamo molto supportati anche dal sindaco, dal Comune e dallo staff del Comune. Poi noi cerchiamo di andare d'accordo, come dice mio papà, i sette quartieri non sono mai andati d'accordo però troviamo sempre una via per trovare sempre una soluzione che vada bene per tutti e sette. Abbiamo le nostre idee, per fortuna i nostri colori e quindi troviamo sempre un qualche cosa per poter andare avanti. Sarà una competizione accesa? Come sempre, quella è il sale di tutto diciamo, sia nelle sparate, noi teniamo particolarmente perché le curiamo noi, le creiamo noi e sia con i pirotecnici che comunque ormai sono quasi di famiglia nel senso che le famiglie poi anche con i fuochisti napoletani si fondono perché anche loro poi capiscono il sentimento della festa e quindi quando arrivano qui ci dicono sempre che questa è una festa particolare quindi questo noi inorgoglisce perché sentono proprio il calore, sentono la passione che c'è al di là di tutto, delle problematiche, delle divisioni, quello che dicevo con lei, si dice con lei siamo sette divisi per unirci e questo è bello perché nel senso alla fine riusciamo sempre e comunque arrivare in fondo alla festa perché la suffragina ha il nostro obiettivo di onorarla, di venerarla e di ringraziarla Revisioni del tempo per domani, domenica 9 settembre poco nuvoloso sull'intero comprensorio con tendenza a miglioramento verso sera 20 a regime di brezza su lungo le coste, deboli nell'interno mare calmo o poco mosso, umidità su valori alti le temperature sulla costa minima 17 gradi, massima 28 nell'interno 13 di minima, 25 di massima la tendenza per lunedì 10 settembre, poco nuvoloso per l'intera giornata 20 deboli, mare calmo, temperatura sulla costa minima 16 gradi, massima 30 nell'interno minima 15, massima 28 3013 massimbreoma il Grazie a tutti.